Alberto Mariani, mister dell'Atletic, vuole fornirci un commento sulla partita? Sono contento io, contenta la società, andiamo avanti. Quindi pensa che il risultato sia giusto? Ma sì, poi alla fine l'1-1 è giusto per quello che si è visto in campo, almeno come azioni. Forse ai punti, secondo il tempo, magari soprattutto avremmo meritato qualcosa di più.